al webinar del lunedì con investire.biz un appuntamento dove sostanzialmente andiamo ad analizzare a commentare e a interpretare i grafici dei principali strumenti finanziari per partire con il piede giusto in una nuova settimana sui mercati finanziari do il benvenuto da malta a riccardino zago ciao riccardo ciao luca e buonasera a tutti quanti siamo tantissimi oggi esatto esattamente siamo sempre di più a questo appuntamento ma d'altronde questo non è una sorpresa perché comunque da tanto tempo oramai che esiste questo appuntamento e sta sempre di più diventando un appuntamento fisso per tutti i trader o comunque le persone interessate ai mercati finanziari proprio perché è un po' una sorta di inizio della settimana tutti assieme dove appunto si vanno a commentare i mercati io direi di partire prima di tutto dal video che trovate in home page su investire.biz ve lo linko subito in chat qualora non l'aveste ancora visto perché è un video che ho fatto proprio nello scorso weekend dove spiego quello che andremo a vedere nel corso che parte il giorno 23 ragazzi fare soldi come le big banks vedremo come interpretare e come utilizzare i dati che vengono pubblicati settimanalmente dalla cftc che è la commodity future and trading commission e vedremo come capire da che parte si stanno posizionando le mani forti quindi gli investitori istituzionali ma soprattutto vedremo come tradurre in operatività quelle che sono le loro mosse ok quindi qualcosa di estremamente interessante tra l'altro appunto estremamente interessante anche perché abbiamo avuto modo di vedere già più volte che questo tipo di operatività porta a delle operazioni estremamente interessanti come lo short su euro franco svizzero che volevo far vedere anche adesso riccardo quindi ti chiedo di andare sul grafico di euro franco svizzero proprio perché in tanti mi avete chiesto mi avete fatto qualche domanda appunto su di quello che poi di fatto è l'esempio fatto nel video appunto che vi ho appena mandato e chiaramente se volete sapere dove appunto si capiva che le mani forti stavano entrando di fatto short che poi non è che stavano entrando short su euro franco ma stavano vendendo euro e comprando franchi svizzeri quindi quello che poi vedremo al corso è proprio questo il bello di questo tipo di operatività è che esattamente come un puzzle vi insegnerò a mettere assieme più elementi per capire poi che tipo di operatività andare a fare su degli strumenti finanziari che abbiamo in piattaforma quindi estremamente interessante ora vediamo dal punto di vista tecnico riccardo secondo te dove può arrivare questo questo cambio perché io sono abbastanza convinto che manchino ancora un 150 pips di movimento a ribasso movimento che poi raggiungerebbe secondo me appunto ecco quel livello dove sei dove sei passato ora proprio esatto quel doppio minimo molto importante che in area appunto 1106 tu lo vedi fattibile come come ti sembra questo questo target e soprattutto per chi non fosse ancora entrato magari che tipo di operatività metteresti in ballo diciamo eccomi qua allora che dire euro franco svizzero beh abbiamo aggiornato i minimi da da poco da qualche giorno insomma livello di 1 0 8 20 è stato rotto con forza al al ribasso molto interessante soprattutto questa candela ad alta volatilità rispetto anche a quelle precedenti quindi rottura avvenuta con forza e ovviamente confermata sono d'accordo con il livello individuato come possibile target insomma quindi stiamo parlando del livello di 1 0 6 e 1 0 6 e 40 che insomma non si vede da veramente molto tempo perché eccoci qui dal febbraio del 2017 quindi il livello secondo me è molto interessante andiamo però a zoomare per vedere come possiamo sfruttare quindi questi ulteriori quanti sono 90 100 pips al ribasso secondo me potremmo sfruttarli in questo modo allora come al solito io attendo il ritracciamento dopo un impulso quindi noi abbiamo assistito a questa eccola qui abbiamo assistito a questo abbiamo assistito a questo forte impulso al ribasso sto attendendo un ritracciamento su questa zona qui si possono valutare due livelli a mio avviso che adesso andiamo subito a vedere il primo è 1 0 8 eccolo qui e l'altro è 1 0 8 e 20 li andiamo a tracciare sul grafico quindi 1 0 8 ecco qui il primo livello che a mio avviso è interessante per chi invece vuole attendere ancora un po' di più eccolo qua 1 0 8 e 20 quindi questa zona a mio avviso è una zona molto interessante e come stop loss tranquillamente alla chiusura dei prezzi sul time frame giornaliero quindi alla chiusura della candela giornaliera al di sopra del livello di 1 0 e 86 in questo caso andiamo a tracciare una linea e la facciamo però di colore eccola qui rosso ecco qua questo livello rialzo secondo me è il caso di uscire una operazione che potrebbe che ha comunque degli ottimi rapporti di rischio rendimento soprattutto se entriamo da 1 0 8 e 20 perché abbiamo uno stop di 40 50 pips sicuramente più di 40 se il nostro stop si basa sulla chiusura giornaliera quindi se viene rotto quel livello usciamo dalla posizione dai 50 ai 60 punti all'incirca e abbiamo un possibile target di 180 quindi direi che è uno che è un'ottima operazione va bene anche da 1 0 8 dai ci può stare lo stesso guarda io non vedo l'ora di cominciare giovedì questo corso anche perché indovinate un po' chi sarà il primo a collegarsi giovedì indovinate indovinate un po' sarà il nostro riccardo perché provate provate a immaginare come quale potenza può avere la nostra operatività unendo delle informazioni così importanti come appunto uno studio tecnico uno studio appunto dei grafici la price action che utilizza riccardo con appunto questo tipo di informazione voi provate a immaginarvi cosa vuol dire trovarsi a fine settembre inizio ottobre con le candele che vedete lì sul grafico in alto che cominciano a fare queste grosse ombre che cominciano a rimanere al di sotto di livelli estremamente importanti e sapere per certo ragazzi perché questa non è teoria sono dati certi di contratti che vengono scambiati al chicago mercantile exchange quindi non dati chissà presi da chissà quale piattaforma ma stiamo parlando di contratti future che passano veri fatti di soldi veri provate a immaginarvi cosa significa essere in quel punto vedere gli investitori istituzionali che cominciano a shortare pesantemente l'euro e a comprare pesantemente il franco svizzero beh è naturale che si riesca poi a diciamo tradurre questa operatività questa diciamo queste mosse degli istituzionali in un'operatività vincente io non sto dicendo che non dobbiamo più fare trading assolutamente però voi provate a immaginare cosa significa per esempio in questo momento applicare la strategia che vi ha fatto vedere i livelli che vi ha fatto vedere riccardo con la tranquillità tra virgolette di essere dalla parte corretta cominciate a vedere anche cose come ha visto francesco in questo momento che scrive nei commenti da notare la percentuale dei rialzisti o guarda caso il 95 per cento dei trader retail quindi i pesci piccoli sono posizionati esattamente al contrario ecco al corso vi farò vedere anche queste cose vi farò vedere perché gli istituzionali si muovono così e perché gli istituzionali hanno bisogno dei trader retail per fare in modo che riescano diciamo ad invertire le proprie posizioni però non voglio spoilerare niente anche perché appunto gli iscritti sono davvero già tantissimi ragazzi io ho davvero un successo così di pubblico non lo avevamo non mi ricordo da quanto da quanto tempo quindi questo mi fa molto piacere probabilmente si vede anche l'amore e la passione che ho messo in in tutta la presentazione di questo corso al quale tengo veramente tantissimo proprio perché so che darà un valore aggiunto incredibile a tutti quanti io so che chi parteciperà poi quando mi troverà in giro alle varie fiere del trading online mi ringrazierà bene francesco ci sarà mauro ci sarà andrea ci sarà angelo ci sarà e anche raffaele quindi ragazzi vi aspetto davvero a braccia aperte bene riccardo anche ricordare una cosa importante che questa percentuale è così alta da 1 0 8 e 40 1 0 8 e 20 è volevo ricordarlo questo è un fattore a mio avviso importante quindi è data da un bel po che i tail sono posizionati a rialzo il prezzo continua a scendere e secondo me continuerà a scendere bene 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 sono io sono abbastanza convinto adesso questo rimbalzino non credo che arriverà sinceramente nell'area che ha indicato tu perché davvero poi lo vedremo al corso gli istituzionali stanno comprando franco svizzero a manetta e stanno vendendo euro a manetta e quindi insomma vediamo 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 bene anche roberto ci sarà quindi sono contento ragazzi siamo davvero tanti e spaccheremo tutto quanto quindi se non vi siete ancora iscritti vi invito andare sul sul sito investire punto biz magari riccardo facciamolo vedere su investire punto biz nella sezione corsi trovate chiaramente fare soldi come le big banks ancora per due giorni scontato al 20 per cento ragazzi approfittatene perché ne vale davvero la pena bene 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 vai andiamo in piattaforma e vediamo un pochettino cosa sta succedendo sugli strumenti principali o vediamo un bel euro dollaro riccardo dove c'è stato un cambio di direzione ah sì esatto infatti oggi sono entrato short cosa che solitamente non faccio se non sono rotti se non è ancora avvenuta come potete vedere qui i minimi di periodo però ho voluto rischiare un po di più anche perché ho individuato uno stop abbastanza interessante quindi stop molto stretto target abbastanza ampio come dicevi tu qui c'è stato una bella un bel cambio di direzione fino a pochi giorni fa ero posizionato al rialzo ma come al solito facendo trading di breve termine bisogna anche cambiare bisogna cambiare la propria view se le candele ci danno questo tipo di informazioni infatti venerdì c'è stata una candela molto importante a mio avviso che ha aperto non dico sui massimi ma quasi è chiuso sui minimi è stata e euro dollaro adesso sta attaccando i minimi di periodo che dire questo la candela di venerdì mi ha dato un segnale ribassista quindi ho deciso di chiudere le mie posizioni a rialzo aperte da 1.11.25 le ho chiuse già venerdì pomeriggio perché ho visto una spinta importante da parte del dollaro americano quindi ho chiuso i long e questa mattina invece ho aperto uno short con stop adesso ve lo faccio vedere subito abbiamo uno stop alla chiusura giornaliera almeno io sopra 1.11 1.11.02 comunque sopra il massimo di quest'oggi praticamente e possiamo anche andare a valutare un target per esempio in area 1.10 quindi anche questa una operazione con dei buoni rapporti rischio rendimento lo stop è veramente molto stretto ho voluto individuare questo livello proprio perché siamo entrati ma non è ancora stato rotto il minimo in chiusura stiamo parlando comunque di un'operazione con 20 30 pips di stop e un possibile guadagno di 80 90 pips quindi mi piace molto anche un c'è anche un bel testa e spalle che si che si vede su questo grafico interessante comunque la che poi appunto corrisponde alla rottura della trend line quindi interessantissimo assolutamente mi piace molto Luca soprattutto la rottura della trend line sai ultimamente io non le sto usando molto però questa volta devo dire che combacciano le informazioni quindi ho voluto tenermi questa bella linea di tendenza guarda questo me l'hai insegnato tu quindi rottura della trend line ritest sul punto di rottura proprio qui e bel segnale non ha sorpassato non ha sorpassato il pullback l'apertura della candela rossa quindi non ha chiuso mai al di sopra della della candela che ha rotto la trend line quindi davvero abbiamo dei bei 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 segnali molto interessanti livello di 1 e 10 contando anche che attenzione in tutto questo gli istituzionali stanno vendendo euro è quindi poi adesso non vi dico niente ma vedremo anche cosa stanno facendo sul dollaro quindi esattamente come abbiamo fatto per euro franco andremo a costruire le posizioni anche su euro contro dollaro perché ricordiamoci che il forex è sempre e comunque una coppia di valori è sempre un qualcosa che è mosso anche di fatto dai movimenti su altri strumenti ma non voglio approfondire troppo in questo caso mauro mi chiede ci sono indicatori specifici facendo riferimento al corso indicatori veri e propri no nel senso non è un corso di analisi tecnica ma i partecipanti riceveranno quello che io ho chiamato shark report in onore appunto dei degli investitori istituzionali degli squali di wall street che è il file con il quale appunto poi riusciremo a diciamo costruire questo puzzle che ci permetterà poi di fare e di incastrare le diverse operazioni quindi è un file un file excel estremamente estremamente prezioso che davvero non farete più a meno di vedere ogni settimana bene andiamo avanti euro dollaro direi che la situazione è abbastanza chiara anche perché continua a essere un cambio diciamo dove la volatilità sta un po mancando è un cambio un po ingessato però insomma rimane sempre comunque importante anche da guardare per avere sotto controllo un po è un termometro euro dollaro che ci racconta un po i rapporti tra il vecchio e il nuovo continente a livello economico quindi non possiamo non guardarlo bene direi che possiamo proseguire di cambi ce ne sono molti però prima volevo soffermarmi un attimo sul gold perché luca perché siamo entrati long siamo entrati long sul gold da 1550 1551 primo target 1600 stop loss alla chiusura di prezzi di sotto di questo bel minimo che si è creato andiamo a prenderlo eccolo qua e anche qui abbiamo comunque un buon un'operazione con ottimi rapporti rischio rendimento perché se siamo long da 1550 abbiamo uno stop che vale in circa più o meno una ventina di pips e un bel target di 50 quindi un'operazione che mi piace parecchio ma questo è solo il primo target perché se i prezzi dovessero rompere i massimi precedenti in area 1610 servirebbero delle insomma dei varchi importanti quindi io sono rialzista di oro mantengo questa posizione che ho aperto anche ho aperto un po in ritardo devo dire perché perché siamo stati un po sfortunati avevamo impostato un ordine pendente in area 1535 proprio qui sì sì proprio di di poco siamo stati un po sfortunati per un pip proprio perché qui abbiamo segnato 1536 non sono entrato non sono entrato in posizione ma quello che vedo io qui è questo un attimo che prendo il pianino eccoci qua un bel impulso rialzista dopo la rottura della resistenza importante che avevamo segnalato prima di natale un bel impulso rialzista un massimo molto importante ritracciamento su delle zone tecniche che a mio avviso sono molto interessanti perché se andiamo ad allargare il grafico eccole qui quindi minimo interessante guardate anche la stessa candela cosa ci dice un ombre importante ribasso corpo molto piccolo non è un hammer perché non ha chiuso sui massimi la candela negativa comunque il segnale è il segnale mi piace ecco quindi long da 1.550 ripeto target 1.6 primo target attenzione poi da lì bisogna anche gestire la posizione si può valutare anche in base all'esposizione che abbiamo preso se portare a casa a parte della posizione o metterlo stop in pareggio piuttosto che in profitto ma questo poi lo vedremo anche nei prossimi giorni se il prezzo salirà per bene e stop sotto 1.535 questa è l'operatività ti chiedo di zoomare sull'ultima parte del grafico perché volevo far vedere una cosa interessantissima che appunto si vede da questo grafico che volevo far notare magari alle persone che hanno ancora un po poca dimestichezza con i grafici con l'analisi tecnica io ci tengo sempre a far capire che quello che noi diciamo sui grafici magari qualcuno che all'inizio un po del percorso di analista tecnico pensa che diciamo cose un po strane guardando questi grafici però in verità il metodo dell'analisi tecnica che aiuta ad interpretare appunto l'andamento poi di fatto è un qualcosa di estremamente pratico che altro non fa che andare a vedere quello che è successo nei prezzi in questo caso vi voglio far notare la candela che ha evidenziato riccardo questo io lo chiamo hammer perché dico la verità non sono non sono così farmacista da vedere se la candela è negativa oppure no quello secondo me è un hammer guardate questa candela perché a mio avviso porta con sé delle informazioni estremamente importanti guardate dove è stata fatta è stata fatta esattamente sullo stesso livello di un'altra candela con un'ombra molto importante che è quella di tre giorni precedenti alla stessa eccola lì guardate ha indicato proprio il minimo riccardo e fateci caso ancora altri tre giorni precedenti c'era una candela estremamente importante verde quindi la candela che sulla quale poi riccardo ha deciso di entrare è una candela che viene costruita viene segnata in un punto estremamente bullish del grafico estremamente rialzista tenete presente che questo è importantissimo perché una candela può avere una conformazione rialzista ma dipende sempre da dove viene segnata da dove viene da dove si crea sul grafico una candela esattamente identica magari in un'altra posizione non avrebbe avuto la stessa connotazione rialzista questo estremamente importante guardate sempre quello che è successo prima sul grafico e soprattutto non abbiate paura andare indietro magari anche qualche settimana o qualche mese nel grafico perché i grafici hanno memoria sempre 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 ok magari è passato un mese magari ne sono passati due ma il mercato è come gli elefanti non dimentica niente e vi assicuro che se un punto è stato importante nel passato è molto probabile che sia importante anche nel futuro ok benissimo sono un po qua siete ragazzi questa sera siete tantissimi ma usate poco la chat mi raccomando forza e non facciate i timidi o ecco qua lorenzo possiamo vedere dove metterlo stop su questo titolo falc rinnovabili mizzeca lorenzo falc rinnovabili era dal 2000 che non le sentivo no non le vediamo le falc rinnovabili oggi perché abbiamo troppi strumenti da vedere fai tu un bel un bel articolo sulle falc rinnovabili andiamo vai comunque luca guarda 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 qui il livello che da te menzionato che ho menzionato anche ovviamente guarda in passato come aveva funzionato qui si era creata una bella doji chiamata anche gravestone doji proprio qui intorno all agosto 2 agosto 2019 poi anche qui un bel pattern ribassista quindi questo è decisamente un punto importante e lo abbiamo visto perché i prezzi qui si sono fermati come dicevi tu poi la rottura è avvenuta questo giorno qui con molta forza quindi bellissimo questo livello 1500 e 35 un vero peccato non essere entrati proprio lì spiorato l'ordine pendente però dai insomma adesso speriamo che i prezzi continuino a salire secondo me comunque questo è importante questo livello è veramente un livello interessante perché si vede una cosa quando un livello viene rotto da una candela così grossa così potente non vuol dire che quel livello lì non è più valido anzi anzi è validissimo perché se i prezzi dovessero arrivare in quello stesso punto con molta meno forza rispetto al punto in cui sono stati rotti i prezzi beh lì ci sarà un rimbalzo ed è quello che effettivamente è successo quindi davvero un ottimo caso di studio c'è carlo che ci chiede comunque l'oro negli ultimi dieci anni in media è sempre salito a gennaio febbraio a guarda carlo sfondi una porta aperta perché noi sul nostro sito investire punto biz abbiamo tutta una sezione dedicata alla stagionalità e proprio sull'oro credo che ne abbiamo l'abbiamo detto adesso non volevo ripetermi ma giustamente riccarlo sta facendo vedere gennaio febbraio sono proprio i mesi dove mediamente viene viene segnato il rialzo più importante dell'anno quindi tra fine tra metà dicembre e febbraio loro tendenzialmente sale quindi è un qualcosa che noi monitoriamo oramai da anni roberto dice che è long da natale assolutamente bravissimo comunque si è vai vai luca e alessandro ci dice che la candela del 7 gennaio non potrebbe essere invece un segnale di inversione ma vedi anche lì ecco ottima ottima questione alessandro dove è stata creata quella candela è un punto che può rappresentare un punto di inversione particolarmente importante oppure semplicemente è un punto così messo no ma rimani pure su questo grafico riccardo non stare a stravolgere e tutto quanto oppure è semplicemente un punto dove chiaramente dove dopo un forte rialzo c'è stato un sell off dovuto anche ai venti di guerra e magari a una situazione politica secondo me è appunto un punto non così importante e da tenere presente anche sull'oro siamo all'interno di un trend rialzista generato da un triangolo rialzista che ha dei target ben più ampi quindi è il contesto che è molto importante non è tanto la candela specifica ecco questo è sono d'accordo poi sai luca io cerco sempre di evitare di seguire le notizie le bombe le guerre queste cose qui almeno per quanto riguarda il mio modo di fare trading ecco perché secondo me quelle sono semplicemente del dei metodi per creare confusione in generale perché poi il prezzo ti dice sempre tutto non serve star lì a vedere secondo me anche delle bombe perché giustamente come ci dice carlo quel giorno nello specifico era proprio il giorno delle bombe in in iraq quindi è assolutamente così assolutamente così il prezzo non mente registra tutto e raccoglie e diciamo digerisce tutte quelle che sono le informazioni disponibili sul mercato in quel determinato momento esatto poi attenzione e non è che noi possiamo sapere tutto se le indoviniamo sempre tutti quindi attenzione che bisogna anche sapere di bisogna anche saper chiudere una posizione quando un determinato livello viene rotto perché se quello era il nostro livello guida per lo stop loss una volta che è superato dobbiamo chiudere la posizione non rimanere lì che poi ci ingabbiamo in posizioni che andranno avanti i mesi perché diciamo e vabbè ma scenderà invece no come fa la semplice 500 sale e basta esatto 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 assolutamente bene 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 allora bravo francesco far correre i profitti e tagliare le perdite subito la regola che conoscono tutti ma che pochi applicano purtroppo è così anzi viene proprio fatto il contrario va bene mi raccomando se avete bisogno di un po di supporto se avete bisogno di qualche idea operativa ricordatevi che c'è il traders club che è il nostro canale telegram dove tutti i giorni scriviamo operazioni di trading e quant'altro è tra l'altro se avete un conto finanziato con kimura trading finanziato con almeno 10 mila euro il servizio è gratis quindi insomma siamo siamo qui apposta non è che siamo al webinar del lunedì è ci siamo tutti i giorni tutta la settimana i giorni belli aggiornati guardate qui scriviamo sempre tutto vedete tutti gli aggiornamenti manteniamo long entriamo short insomma condividiamo con voi la nostra operatività quindi se volete far parte potete bene io mando il link del traders club così se qualcuno volesse poi partecipare è il benvenuto bene 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 ottimo 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 bene ok allora andiamo avanti allora qui io voglio vedere un altro strumento interessante volevo anche un tuo commento in merito e usd yen perché ha raggiunto dei massimi interessanti delle zone importanti sto parlando del livello di 110 30 110 25 e sta creando delle candele di indecisione ok però 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 sono tutti short 86 per cento sono posizionati al al ribasso su questo strumento quindi secondo me potrà potrebbe salire ancora anche perché guardate le candele degli ultimi giorni a partire dai minimi guardate che candele al rialzo importanti noi siamo long da 109 56 quindi molto bene abbiamo già portato lo stop in pareggio però devo dire che se dovessimo assistere a un ritracciamento secondo me si potrebbe anche valutare un bel long perché perché i minimi precedenti sono stati rotti e sono stati rotti con molta forza da questa candela che ha aperto sui minimi e ha chiuso sui massimi quindi un bel segnale rialzista secondo me usd yen long nel medio termine anche se adesso sta un po' tentennando però insomma i grafici salgono e scendono bisogna cercare di individuare quello che è il trend secondo me in questo momento il trend è rialzista cosa ne pensi luca guarda prova a stringere un po' il grafico che vorrei vedere un po' la situazione perché su questo cambio personalmente sono 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 long da un pochettino proprio perché il minimo che avevi individuato tu davvero era estremamente estremamente interessante detto questo qui c'è stata a mio avviso un'inversione di tendenza di di lungo termine perché se stringi ancora un pochettino il grafico esatto e tracci una trend line partendo da proprio dai massimi bravissimo perfetto se tracci una trend line con appunto i nostri canoni soldi va benissimo così va benissimo così adesso allarga e andiamo nella parte finale del grafico perfetto vediamo una cosa estremamente interessante ovvero che qui c'è stata proprio un'inversione di tendenza estremamente importante una trend line che durava veramente da tantissimo tempo è stata rotta questo significa che è svoltato un ciclo molto importante molto molto importante che sicuramente è un ciclo di lungo termine quindi quando succedono queste cose che cosa succede di fatto è molto probabile che il trend continui verso l'alto di fatto senza ritracciare in questi casi proprio in virtù del fatto che è molto probabile che abbia svoltato un ciclo molto lungo è semplicemente la mia strategia diventa quella di aprire delle piccole posizioni al rialzo ogni volta che una giornata è negativa tipo tre giorni fa con la candela rossa giornata sì negativa ma di fatto su una candela che ha una connotazione rialzista quindi questo secondo me è un cambio che ci darà delle soddisfazioni al rialzo appunto chiaramente il money management è sempre importante però c'è da dire che è palese che qui è cominciato qualcosa di grosso guarda quella quella candela verde che che segna al minimo che candelona incredibile che questa secondo me ha dato il via a un cambio questo è un missile questo è un missile un missile di Elon Musk questo qua cioè si è magnato tutto e da lì c'è boom lì significa che qualcuno di pesante è entrato e quindi assieme appunto all'analisi tecnica è estremamente estremamente interessante esserci chiaramente noi non possiamo predire il futuro quindi il rischio è sempre molto importante da tenere sotto controllo a proposito di rischio di money management se non l'avete ancora visto vi consiglio di vedere il video che abbiamo pubblicato oggi proprio uno speciale money management che vi linko eccolo qua ve l'ho vi ho mandato l'articolo ah l'hai mandato anche te vabbè niente ce l'avete due volte è un video brevissimo ma che spiega dove Riccardo spiega appunto come utilizzare la tecnologia della piattaforma di Kimura per fare un money management assolutamente spettacolare quindi mi raccomando mi raccomando no mi sono un attimo confuso che c'è Luigi che dice ragazzi fate i bravi non ho capito Luigi a che cosa fai riferimento spiegamelo che non ho capito e quindi appunto questo video è estremamente importante proprio perché spiega bene come fare in maniera semplice e in cinque minuti l'analisi diciamo la copertura dal rischio cosa che spesso e volentieri viene assolutamente lasciata al caso dai trader ma è in assoluto una delle cose più importanti addirittura spesso più importante della stessa tecnica quindi mi raccomando guardate questo video perché Riccardo è stato davvero davvero bravo bene 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 inoltre per chi sta usando la piattaforma C-Trader o comunque vuole iniziare ad usarla non c'è solo quel video ma ce ne sono diversi quindi qui li trovate tutti quanti ne ho fatti parecchi adesso ne ho adesso giusto ancora però insomma qui c'è ci sono un bel po' di video interessanti ecco tutti questi video li trovate nell'academy scusate nelle guide di investire.biz e appunto nella pagina specifica della C-Trader ma vi ho appena mandato il link a tutti i link che vi ho mandato per chi vedesse la registrazione li trovate nella descrizione del video link ottimo 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 bene dai allora andiamo avanti con gli strumenti che andiamo a vedere dopo USD Yen allora dopo USD Yen sto guardando qui un attimo che cosa che cosa si potrebbe vedere allora no no dov'era dov'era ah eccolo qui USD CAD oh bene allora situazione interessante a mio avviso su USD CAD siamo in posizione da un po' di giorni proprio da questi livelli poco più in alto è segnalato ovviamente tutto all'interno del del gruppo Traders Club comunque la situazione è la seguente abbiamo un trend palesemente ribassista dopo questo doppio massimo abbiamo assistito a dei massimi e dei minimi via via crescenti massimi e minimi e scusa massimi e minimi via via decrescenti rottura importantissima di questa zona in area 1, 30 e 60 guardate che candella importante qui ecco bene qui si è creato un minimo da dove è partito un ritracciamento che a mio avviso può finire qui allora non è detto però guardate che candella si è creata guardate questa candela con un'ombra importante al rialzo è un corpo molto piccolo quindi sono entrato in posizione adesso vediamo come andrà a finire però lo stop loss è il seguente quindi chiusura della candela giornaliera quindi chiusura giornaliera sopra 1, 31, 1, 31, 0, 5 per la precisione andiamo a prendere il massimo eccoci qui primo target abbiamo i minimi precedenti ma come al solito poi noi lasciamo correre la posizione perché se siamo in un trend ribassista ci aspettiamo comunque dei nuovi minimi e quindi allarghiamo il grafico per andare a vedere o comunque per cercare di capire quale può essere un target interessante e qui vediamo che abbiamo uno spazio abbastanza importante perché il prossimo supporto lo troviamo qui un supporto molto importante perché se andiamo a zoomare cosa vediamo vediamo che da qui è partito un movimento forte al rialzo dopo un pattern di inversione guardate che movimento è partito bene questo potrebbe essere il target finale come al solito bisogna monitorare giorno dopo giorno il comportamento del prezzo proprio perché ci potrebbe anche essere un pattern di inversione comunque ottima potrebbe essere un'ottima operazione il primo target come detto 1, 29, 55 ultimo target secondo e ultimo 1, 28 eventi abbiamo un dato interessante ovviamente l'81% dei trader è posizionato al rialzo questa è la mia view su USDCAD e secondo me si può entrare anche adesso bene bene sì sì molto interessante questa questa view bene Riccardo io direi che ci possiamo fermare qua anche per oggi grazie a tutti davvero siete stati tantissimi a partecipare io vi do appuntamento a domani su investire.biz e soprattutto mi raccomando ci vediamo giovedì al corso fare soldi come the big banks bene buon trading a tutti ciao Riccardo e grazie ciao Luca buona serata e buona serata a tutti quanti grazie a tutti grazie a tutti